allora buongiorno a tutti da Paolo Serafini trader professionista da oltre 20 anni vediamo se aspettiamo che arrivi qualcuno vediamo se qualcuno mi vede correttamente se arrivano le domande purtroppo è la prima volta che faccio il video col telefonino e vediamo se riuscite a vedermi ciao Orso si vede bene vediamo se mi danno risposta se qualcuno vede bene è la prima volta che lo faccio col telefonino vediamo se riesco a vedere i messaggi vediamo aspettiamo un minuto che arrivi qualcuno ok ciao Alberto ciao a tutti spero mi vediate bene tra poco iniziamo la diretta aspettiamo un altro minuto ok si vede speriamo si veda bene perché è la prima volta che lo faccio quindi sto tenendo il telefonino in mano è la prima volta e purtroppo qui devo farlo col telefonino perché altrimenti rischio come questa mattina con la diretta con Vision Forex che dopo è andata via la connessione quindi ho paura che succeda quello che è successo l'altra settimana quindi vediamo un attimo che funzioni tutto correttamente altrimenti dopo dal mio amministratore mi prende un sacco di parole e quindi ok va bene Amos ciao ciao a tutti allora ciao Claudio aspettiamo altri due tre minuti vediamo un attimo sarà qualcuno sta guardando le partite di calcio magari che c'è sono le partite di calcio termino mi sembra tra poco dovrebbe terminare ciao Andrea allora se avete qualche domanda postate la pure qui che dopo vi rispondo velocemente siamo qui nella casa di albarella stiamo facendo la diretta vediamo un attimo aspettiamo un altro minuto e poi iniziamo subito la diretta praticamente durante questa settimana mi sono arrivate tante mail di persone mi hanno fatto tante domande e qualcuno addirittura che mi chiedeva di recuperare le perdite che aveva subito sul suo conto che gestissi il suo patrimonio ricordo ancora magari per qualcuno che non ha seguito le dirette precedenti che è proibito non posso gestire i capitali di altri è una pratica che non si può fare non posso neanche dirvi di dare i soldi a me che gestisco i vostri soldi chi lo fa lo fa in maniera illegale e quindi è proibito fare queste cose qua quindi vi prego non scrivetemi che io debba recuperare i vostri soldi io lavoro sui miei conti e basta quindi mi raccomando ciao gabriele ciao paolo ciao a tutti e quindi mi raccomando non scrivetemi queste cose perché se avete perso i soldi evidentemente c'è qualcosa che non va come voler fare mai il dottore il dottore fare un'operazione un'operazione a qualche paziente e non laurea non ha mai fatto niente quindi chiaramente il paziente rischia di essere squartato quindi attenzione a queste cose qui perché tante persone si vogliono fare trading alla fine poi non hanno nessuna formazione oppure pensano che sia così semplice cliccare col mouse comprare vendere velocemente e pensano sia facile fare trading in realtà non è non è così semplice quindi prima di parlare un attimino dell'argomento che abbiamo detto che ho detto proprio su questa sera che è quello di stare attenti di differenza tra vari future cercherò di fare una premessa questa premessa qui appunto delle di queste mail che mi arrivano oppure delle delle richieste di gestione di patrimoni non posso fare gestione di patrimoni di altri gestisco solo il mio portafoglio e quindi se non siete in grado di gestire il vostro portafoglio è meglio che aspettate un attimo di imparare come fare questo lavoro ci sono tanti mentori che possono insegnarvi cosa fare la cosa fondamentale cercare di scegliere un mentore che faccia già questo lavoro non dico mari io ma potete trovare anche qualcun altro naturalmente non ce ne sono tantissimi in giro di in grado di insegnarvi correttamente cosa guardare sul mercato ci sono persone che sono che fanno fatica loro a lavorare e però sono persone che alla fine che alla fine cercano di portare a casa qualcosina facendo formazione o mandando magari qualche segnale operativo gestendo i soldi degli altri per portare a casa magari qualcosa che alla fine non riescono a portare a casa e alla fine riescono a fare veramente dei disastri perché ho visto anche qualche ragazzo di qualche gestore che ha fatto dei disastri e addirittura ho visto veramente dei conti veramente messi male io chiaramente la prima cosa che insegno è quella di pensare di inserire uno stop velocemente sul mercato non è quella di pensare i guadagni ma cercare di mettere uno stop e quindi di accusare delle piccole perdite perché le piccole perdite naturalmente si riescono a recuperare le grosse perdite si fa fatica a recuperarle ciao daniele ciao a tutti ancora per cui la cosa che che mi raccomando da parte di tutte le persone che si approcciano in questo mondo è cercare di avere un'informazione del mercato cercare di trovare magari qualcuno che mi insegni qualcosa di interessante o qualcosa che fa vedere che quello che insegna magari che lui fa trading che guadagna costantemente tutti i giorni che fa questo di lavoro altrimenti non imparerete niente questo è quello che solitamente ho cercato di trasmettervi durante le dirette che ho fatto mi raccomando fate share perché tra poco vi darò delle informazioni molto importanti le informazioni che vi darò solitamente sono persone sono informazioni che solitamente e ve le possono dare solo persone che fanno questo come lavoro e chi non fa questo come lavoro naturalmente è difficile che via determinati tipi di informazioni come quelle che abbiamo visto l'altra settimana sul sulle euro stocks abbiamo identificato tramite i ragazzi al corso qual era il top dell'euro stocks l'abbiamo visto proprio perché c'è stata un'anomalia sul book che si è potuto vedere questa cosa qui un cordiale saluto ancora ancora che ciao christian ciao giulia ciao a tutti magari qualcuno non lo salutato lo saluto ora e tra poco entreremo appunto nello specifico parlare proprio dell'operatività sui future come casomai lavorare sui future oppure anche sui cfd qualcuno mi ha detto appunto la scorsa settimana ho detto che lavorare sui future si può interfacciare ma il future con la piattaforma mt4 con un ponte apposito si può fare questa cosa qui naturalmente lo stop io metto solitamente i stop che sono dai 3 4 5 punti poi parleremo che dello stop naturalmente lo stop di 4 5 punti se lo mettiamo sul forex sul mercato forex il rischio di essere buttato fuori subito ma io parlo di punti che sono di di magari sono tanti tanti decimali sui forex quindi bisogna cercare di 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 tarare lo stop in modo tale da accusare ma i stessi cinque punti che si che si prendono sul sul future ad esempio sull'euro dollaro oppure sul british pound oppure se facciamo un esempio sul bund se io sul bund cinque tic di stop che mi costano 10 euro devo cercare di calibrare quello stop lì anche sul cfd oppure sulle piattaforme mt4 come come euro dollaro come british pound in modo tale da 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 cercare di stoppare e quando mi parte lo stop sulla sulla ninja su qualsiasi altra piattaforma che ho fatto il il ponte dopo un'altra cosa importante che volevo dirvi che quella di di cercare di di anche se qualcuno magari al momento sta cercando di imparare a fare questo come lavoro che lavoro vero e proprio non è un gioco cercare di farlo in maniera di cercare di andare a trovare quelle situazioni grafiche che molto probabilmente potrebbe potreste guadagnare bene cercare di trovare quelle cose che magari non sono scritte nei libri perché solitamente sul libro di analisi tecnica vi insegnano cos'è magari cos'è una bandiera cos'è cos'è una testa e spalla cos'è magari un supporto una resistenza cosa sono i doppi minimi doppi massimi e questa cosa qui dopo andremo a vederle appunto si fiucio ve le dirò tra poco naturalmente queste sono analisi tecniche che vi insegno cosa fare oppure magari come lavorare su un breakout al breakout solitamente loro quando rompe su una direzione cercano di entrare tutti l'ho tutti long oppure tutti short se rompe di basso magari un supporto l'istituzionale sa queste cose per cui se noi andiamo a fare questo tipo di operatività con l'analisi tecnica rischiamo veramente di farci male di perdere parecchi soldi quindi dobbiamo contestualizzare tutto naturalmente è importante sapere come funziona l'analisi tecnica ma è importante cercare di trovare un qualcosa di definito di chiaro attraverso l'analisi di grafici naturalmente noi se vogliamo trovare le cose non è che andiamo in montagna a trovare le cose le troveremo dove c'è uno scoglio al mare quindi se magari vedo tanti trader che dicono delle cose per televisione ma li fanno qualche analisi capisco al volo che non stanno guadagnando in borsa che sono dei trader che vi stanno raccontando delle balle perché stanno cercando di trovare le cozze in montagna e le cozze in montagna non le troviamo per cui dobbiamo cercare di trovare o di capire esattamente come funzionano come tradano gli istituzionali perché cerchiamo di capire come tradano gli istituzionali cercheremo magari di prendere profitto sul mercato altrimenti questa cosa non la faremo mai questa è una cosa importante da capire perché altrimenti se non capite questa cosa qua io ho cercato tramite questi webinar che ho fatto di cercare di tirare via tutte le credenze che avevate ma su determinate cose ad esempio il testa a spalle io il testa a spalle non lo guardo mai se magari noi vediamo anche magari il l'1 2 3 di rosso l'1 3 di rosso non funziona però se contestualizziamo l'1 2 3 di rosso con una determinata dinamica magari attraverso i volumi o vedendo il buco vedendo la contestualità o contestualizzando proprio l'1 2 3 di rosso su determinati punti grafici particolari certamente l'1 2 3 di rosso funziona perché se non lo mettiamo su 3 di system l'1 3 di rosso ve lo dico già e potete chiedere a chi fa magari di 3 di system non funziona quindi attenzione perché magari qualcuno va a cercare un pattern grafico che possa funzionare ma in realtà dopo dobbiamo contestualizzare anche il pattern grafico su determinate situazioni oltre tutti i pattern grafici che dobbiamo contestualizzare su determinate situazioni grafici e particolari e pattern grafici su determinate punti del grafico dobbiamo anche cercare di non emozionarci sul mercato è la cosa fondamentale cercare di tradare di fare questa cosa qui naturalmente per chi ho già detto magari per chi ha le prime armi cercare di non fare trading all'inizio o di cercare di leggere qualche libro ma naturalmente i libri il più di libri sono scritti da persone che perdono in borsa e guadagnano attraverso i libri e il mio primo libro sono stato anche criticato perché pensavano che io guadagnasse tramite il libro il mio primo libro delle scalpe è stato devoluto completamente in beneficenza quindi chi pensava che l'avessi fatto per guadagnare col libro non è assolutamente vero io guadagno col trading tutti i giorni addirittura questa settimana mi sono arrivate delle richieste di persone che volevano fare il mio corso e li ho rifiutati perché non avevano i requisiti per fare i corsi uno dei requisiti è quello di non avere fretta perché chi mi scrive che vuole recuperare in fretta il suo capitale che ha perso gli dico guarda sta a casa tua perché il capitale se fai così rischi di perdere ancora di più di soldi per cui non voglio persone che magari pensano che in qualche mese si riesca a diventare trader per diventare trader ci vogliono ci vuole un anno o due per diventare trader io da quando ho iniziato a fare i corsi di trading ne ho visti solo tre che hanno guadagnato il giorno dopo ma tutti gli altri ci hanno messo tanto tempo addirittura ha coinciato penso c'è qualche ragazzo ci ha messo 8 9 mesi per cercare di essere profittevole e quindi ha visto determinate dinamiche sul mercato ma ci ha messo un po di tempo quindi per diventare un trader profittevole ci vuole qualche anno se qualcuno ha fretta di fare questo lavoro contro il mio interesse andate da qualche altra parte molto probabilmente da qualche guru che certamente vi insegnerà come prendere i soldi come prendere magari 1000 euro o 2000 euro al giorno come tanta pubblicità spazzatura che passa sul web tutti i giorni quindi loro magari saranno in grado di farvi di farvi i corsi e di accelerare questo processo la vedo molto dura perché queste persone non guadagnano tramite i loro trading ma guadagnano tramite i corsi che fanno quindi contro il mio interesse ho rinunciato a parecchi corsisti che vogliono fare il corso da me proprio perché guadagno in borsa e non mi interessa delle persone che non sono motivate oppure che non hanno non hanno le giuste caratteristiche per fare 3d o vogliono accelerare violentemente questa cosa qui naturalmente la scorsa settimana un ragazzo ha detto che per accelerare il suo trading ha cercato di fare un corso da un metro mare da me oppure poteva poter trovare qualcuno non è che voglia fare pubblicità a me stesso però naturalmente lui ha accelerato il suo processo ha capito delle dinamiche delle cose che magari qualche attraire non riesce a capire naturalmente chi ha fatto come me 5 milioni di eseguiti vi potrebbe insegnare qualcosa di interessante e farvi capire come si comportano gli istituzionali sul mercato naturalmente oltre a insegnarvi qualcosa di che potrebbe diventare qualcosa di profittevole e fare questo lavoro qui che è il più bel lavoro al mondo perché possiamo farlo in qualsiasi parte del mondo io addirittura adesso in questo momento qui mi sto rilassando al mare faccio due mesi di vacanza però questa mattina ho acceso il pc ho fatto qualche operazione ma ho fatto qualche operazione mezz'oretta e dopo avevo un collegamento con visio forex e dopo avevo anche un altro collegamento con degli altri ragazzi per discutere di altri di altri progetti quindi ho fatto qualcosina mi sono preso per dire la settimana di di vacanza però i prossimi giorni non lavorerò rimarrò in ferie non ho voglia di lavorare però se voglio di lavorare posso tirare fuori il pc e posso lavorare perché sto so posso fare questo lavoro in qualsiasi parte del mondo però se tu sei capace di fare questo lavoro in qualsiasi parte del mondo non hai nessun problema certamente è un'indipendenza unica che te lo da solo il trading non hai bisogno di commercialisti perché viene pagato direttamente tutto dalla banca e quindi questa cosa qui si può fare chiaramente da qualsiasi parte perché tu sappia come muoverti sul mercato e abbia capito come gli istituzionali si muovono allora prima di arrivare all'argomento del giorno adesso facciamo una sorpresa che c'è mia mamma qui e faccio dire da lei che vediamo un attimo se sei imbarazzato se mi manda mi manda a ramengo come dicevamo qui in veneto allora quando io facevo trading dalla che ero in studio e in casa con lei che lavoravo avevo anche l'altro lavoro che avevamo un'azienda vendita minuti in grosso di libri squadre un brevetto che aveva fatto lei oltre varie altre attività che ha mia mamma che è un'imprenditrice prima riga 87 anni adesso andiamo a vederla guida ancora la macchina però mi prendeva in giro tutti i giorni per diceva cos'è che fai la sopra che tutto il giorno per di tempo per di tempo durante i giorni del tuo trading vieni qui che devi fare qualcos'altro qualcos'altro alla fine sono riuscito a fare questo come lavoro però mi ricordo i primi mesi mi diceva che perdevo tempo dopo quando ho acquistato il primo appartamento pensava che vendessi droga perché non ci credeva che io guadagnasse soldi con il trading dopo alla fine mi sono acquistato anche un'auto di grossa cilindrata mi sono acquistato il porsche lei pensava che vendessi vendessi se ne si speciasse fosse uno speciatore ho trovato la mamma che facesse qualcosa di illegale su internet in realtà dopo si è resa conto che questo l'ho fatto come lavoro vero e proprio però per lei era un gioco per cui vi ripeto non è un gioco questo qui ma è un lavoro vero e proprio adesso andiamo lì vediamo ti facciamo una sorpresa vediamo un attimo che vado lì da lei vediamo ti faccio una sorpresa lei non sa niente è ignara di quello che sto dicendo casomai se avete qualche domanda dopo la vediamo in diretta ciao a tutti state giocando a carte ma andrà ora qua siamo in diretta su facebook fa un saluto dai un saluto ciao belli ciao belli parla in italiano mi raccomando ti puoi andare anche al paese ascolta una cosa ascolta una cosa cosa che mi dicevi quando ero sopra in ufficio che ai primi tempi è meglio che taser se non faccio brutta figura no di una cosa la parola non si dice che perdevo tempo per niente è un gioco questo qua penso di sì pensi di sì che sia un gioco va bene l'importante è divertirsi giocando e ciappando sky dai fa un saluto a tutti di nuovo arrivederci allora è un gioco importante prendere soldi giocando lei è ancora convinta che sia un gioco è ancora convinta che sia un gioco e dopo tanti anni che faccio questo come come lavoro lei è convinta che sia un gioco ora che ti ha salutato anche giulia va bene la oramai mi sono spostato da qui allora ritorniamo al nostro discorso principale che era quello dei future che abbiamo fatto questa divulgazione in diretta avete capito mia mamma che non crede che sul trading si guadagni ma crede ancora che sia un gioco non sia un lavoro vero e proprio fatalità si raccomanda continuamente che non devo non devo prendermi rischi devo assolutamente stare attento e si raccomanda tutti i giorni naturalmente per le mamme siamo sempre i loro bambini quindi dobbiamo dobbiamo stare attenti ciao matteo la conosci anche te lavando ok perfetto allora fatta questa divagazione torniamo sulle sul discorso del dei fiuccio allora avevo detto che solitamente quando stiamo facendo il fiuccio dobbiamo capire esattamente allora il fiuccio oppure ecf di oppure il forex e il mercato del forex allora ogni fiuccio si comporta in maniera diversa non sono tutti non hanno tutti la stessa velocità sul mercato quindi ognuno di loro si comporta in maniera diversa quindi magari c'è qualche ragazzo che su qualche fiuccio trova la possibilità di guadagnare dei bei soldi invece su altri fiuccio ma li vede che perde continuamente ma li potrebbe essere anche una caratteristica della velocità del fiuccio come si fa a capire la velocità del fiuccio e che tipo di fiuccio ma ripiato a noi allora se noi siamo di tre perché al momento stiamo partendo a fare questo tipo di attività dobbiamo cercare di concentrarci su dei titoli su degli strumenti finanziari o anche l'azionario sull'azionario bisognava essere capitalizzati invece sui fiuccio mai c'è la possibilità oppure sul forex di essere meno capitalizzati però ricordiamoci che ogni fiuccio ha una caratteristica e ha una sua velocità la velocità dipende tanto dal book e se noi andiamo a vedere il book perché sul forex non abbiamo la possibilità di vedere il book ma se voi aprite un book di un fiuccio vi rendete conto subito che vi ringrazio i complimenti alla mamma mi raccomando state attenti quando girate in auto che non sia mia mamma in giro perché con l'auto va via via veloce quindi rischiate io gli chiedo sempre mamma dimmi quando vai via che che resta a casa perché è pericolosa quando vai in auto allora ritornando su fiuccio dovete capire esattamente quando aprite il book del fiuccio mari dell'euro stocks aprite il fiuccio del dax vi rendete subito conto qual è il fiuccio che è più il book come come composto se noi vediamo pochi contratti ad esempio sul fiuccio del dax ci sono pochi contratti tra denaro le tre ci sono tre quattro contratti due contratti capite benissimo che uno che vende ma di 20 30 contratti rischiate che vi vada in stop molto velocemente questa cosa qui dovete prestare attenzione perché magari qualche figura grafica tipo il doppio minimo doppio massimo sul fiuccio del dax fate state pur certi che fate fatica a trovarlo quindi analisi tecnica sul fiuccio del dax fate fatica a trovare un doppio minimo doppio massimo perché facciamo fatica a trovare un doppio minimo doppio massimo sul dax perché è un book troppo è troppo scarico troppo scarico per cui basta qualche contratto in più uno due contratti e quindi il dax e rischia di accelerare giù e ribasso molto velocemente rischia di beccare qualche stop velocemente in questo caso qua vi dico anche un'altra cosa sul dax avendo un book molto sottile facendo il dax solitamente gli istituzionali che muovono il dax cercano di buttare fuori quelli che entrano gli ultimi 3 4 5 minuti questo si vede chiaramente perché perché avendo un book sottile solitamente voi se voi tracciate magari qualche livello anche lavorando con time frame abbastanza bassi andate a vedere che solitamente i punti di swing ve li va a rompere velocemente il minimo che vi ha fatto quattro minuti fa va a romperlo velocemente ma dopo tre quattro minuti perché il fiuccio del dax specialmente il fiuccio rispetto magari cfd che possiamo calibrare meglio nella nostra size il fiuccio dax è abbastanza pesante 25 e 25 euro ogni punto 12 dollari e 12 euro e mezzo a tic mi fa 10 punti in un attimo il dax per cui perde 250 euro ci vuole un attimo questa cosa che purtroppo chi fa trading da poco non lo capisce mai si mettono sì sui cfd però non capiscono che fare 10 punti di dax in un attimo ci vuole una frazione di secondo perché fa 10 punti di dax così velocemente perché il book è veramente scarico ci sono due tre contratti a livello addirittura ci sono gli spread di 12 t che quindi fare il dax non è una cosa per tutti addirittura un mio amico diceva che chi è bravo fare il dax c'è difficile dare del tu al dax e chi veramente bravo a fare il dax se ne guarda bene da dare del tu al dax perché è veramente una brutta bestia e bisogna stare molto molto attenti e bisogna contestualizzare tante cose contemporaneamente per cercare di trarre il dax in maniera corretta per cui fare il dax è una situazione molto molto difficile perché abbiamo troviamo un book che è abbastanza complicato e molto difficile dopo se avete qualche domanda tra un pochino casomai quando ho chiarito un attimo discorso del book dei future casomai potete fare qualche domanda e cercherò di rispondervi ben volentieri perché magari qualcuno mi chiede di fare delle analisi sui titoli solitamente io le analisi sul titolo la faccio magari la mattina vede un attimo cosa ha fatto il titolo quanto è venuto giù e cerco di contestualizzare un po tutto su un panorama grafico abbastanza abbastanza ampio poi cerco di fare mario a quattro ore a due ore cercare i livelli di ingresso interessanti però ogni titolo alla sua velocità come ogni future quindi sto attento anche alla size che entro sul titolo anche perché devo devo cercare di tarare la size in base alla volatilità del titolo se un titolo molto volatile cerco di avere una size un pochino più bassa per cercare se devo tenerlo in portafoglio per cercare di prendere un trend molto interessante quindi è importante che la size che si adopera sui titoli però il discorso principale di oggi era quello di parlare dei future allora abbiamo contestualizzato il discorso sul dax che è un future abbastanza veloce quindi essendoci pochi contratti tra denaro lettera e gioco forza da parte istituzionale cercare di stop molto veloci e caso mai se avete fatto caso anche voi se qualcuno mai ha tradato sul dax è capitato tantissime volte che esce dal dax perché gli ha beccato stop che aveva uno stopo stretto e dopo il dax è partito in maniera così repentina dall'altra parte senza lasciargli lo spazio sufficiente per rientrare sul mercato mi raccomando fate share di questo video che sto facendo vi sto dando delle informazioni molto importanti e le informazioni che vi sto dando io solitamente difficile che le trovate in giro perché sono pochi che tradano questi strumenti finanziari e grossomodo anche chi li trada solitamente non li fa ti dice guarda non fare il dax perché magari perdi i soldi sul dax in realtà il dax si comporta in maniera diversa tra i minimi massimi tante volte le stesse figure grafiche troviamo sul dax e le stesse combinazioni tra le figure grafiche e magari flusso degli ordini che troviamo sul dax si trova e si comporta in maniera completamente opposta per quanto riguarda i massimi quindi sul sui minimi si comporta in una maniera sui massimi si comporta in un'altra evidentemente non so se siano gli hft o chi le attarate le attarate in maniera particolare in modo tale che possiamo trovare delle entrate sul dax che abbiamo una probabilità altissima che vada nella nostra direzione però dobbiamo cercare di capire esattamente come si comporta il dax quindi dobbiamo cercare di capire esattamente attraverso il flusso degli ordini attraverso il book come si comporta il dax è un'altra cosa che volevo dirvi prima di passare magari su altri su altri strumenti finanziari altri future o le commodities è quella di una cosa che ho sentito giorni fa che mi è venuto un ragazzo che mi ha chiesto ascoltami paolo ma c'è un pattern graf il pattern dell'istituzionale allora devo dirvi il pattern dell'istituzionale non esiste e chi vi dice questa cosa sta raccontando una balla ci sono diversi pattern che vanno tutti contestualizzati sono i pattern che hanno magari una che rispondono bene nel mercato che hanno magari un 60 70 per cento di probabilità a loro favore però per cercare di contestualizzare bene questo pattern grafico se funzioni bene come vi ho detto precedentemente l'1 2 3 di rosso non funziona però se noi lo mettiamo lo contestualizziamo magari attraverso il flusso dei volumi attraverso magari possiamo mettere anche volume profile però volume profile vi dà una descrizione parziale di quello che è il mercato per andare a vedere proprio bene cosa stanno facendo istituzionali bisogna entrare proprio dentro e vedere proprio sul cluster di volumi cosa stanno facendo oppure bisogna capire esattamente il il book però sul book vi dico che leggermente tra virgolette più semplice tradare il book del sp500 sp500 è un book che è leggermente più pesante a un book pesante rispetto al book magari al book del nasdaq o book del dow jones il book del nasdaq il nasdaq assomiglia un pochino per velocità al book del dax anche se è più pesante però ci sono così tanti ordini che passano durante il mercato che magari che magari vi si vuole giù di tre quattro punti velocemente ogni punto naturalmente sono 20 dollari abbiamo 5 dollari a appunto è però abbiamo uno strumento abbastanza buono per tradarlo quando non c'è una fase di volatilità estrema e quindi consiglio magari anche il nasdaq è una buona palestra per cercare di tradarlo rispetto che fare magari un future sul dax perché perché il book è veramente scarico invece il future del del nasdaq al mini nasdaq ha un book abbastanza particolare quindi c'è più denaro e lettera quindi è meno è meno manavrato rispetto a quello del dax quindi facciamo una classifica di di fiucio abbiamo il dax che è quello più veloce di tutti abbiamo il fiucio del nasdaq abbiamo il dow jones abbiamo anche il british pound che il british pound è abbastanza veloce come strumento finanziario come fiucio oppure possiamo fare come forex e naturalmente anche su questi su questi strumenti finanziari dobbiamo cercare di stare attenti di contestualizzare le figure grafiche ad esempio se noi vogliamo fare un breakout sul su fiucio come il fiucio dell'eurex e dell'euro stocks facciamo fatica a fare magari un breakout sul l'euro stocks perché a un book che abbiamo 1000 2000 contratti a livello capite benissimo che andare a fare un breakout su un fiucio come l'euro stocks è più difficile vedere un'accelerazione rispetto un breakout del nasdaq oppure il dow jones oppure un breakout sul dax naturalmente vi ho già detto che bisogna stare attenti io consiglio o una tecnica particolare sul breakout non adesso non vado mai dentro sul primo breakout ma cerco di contestualizzare tutto nel secondo o nel terzo breakout e questo lo faccio attraverso il flusso dei volumi quindi attenzione a contestualizzare queste cose qui perché mi raccomando fate share fate qualche like perché le queste cose che vi sto dicendo solitamente pochi tre delle fanno perché magari fanno lavorano tanto sui sul forex e non capiscono l'importanza delle mari di un attraversamento di un livello importante perché magari lo tradano tutti la stessa maniera in realtà ogni strumento viene tradato in una maniera diversa e qui bisogna contestualizzare tutto col book e color del flow col volume cluster quindi bisogna contestualizzare dove ci sono i volumi che ho detto l'altra volta che dobbiamo cercare di avere i volumi sempre dietro di noi in modo tale che abbiamo il campo aperto nella parte la parte davanti a noi e dobbiamo vedere anche cosa è successo davanti a noi perché io non aprirò mai una posizione se vedo che davanti a me ci sono dei volumi interessanti quindi cercherò di non tradare o di non fare operazioni quando vedo che davanti a me ci sono dei volumi molto molto importanti quindi abbiamo ripetiamo un attimo che il discorso che vi ho detto che per quanto riguarda il ciao a tutti ciao leonard per quanto riguarda l'euro stocks dobbiamo cercare di comportarci in maniera diversa perché vediamo l'euro stocks tante giornate si muove su 4 5 6 punti quindi magari se noi vogliamo un movimento sull'euro stocks non lo troveremo mai un movimento magari sul sp500 potremmo trovarlo più velocemente rispetto all'euro stocks e vi ricordo che anche l'sp500 è un buco abbastanza pesante anche qui bisogna prestare attenzione a meno che non sia un flusso di ordini molto importante come una costruzione grafica che ha fatto venerdì che abbiamo visto delle forti accelerazioni sulle sp500 fino alle 17 quindi abbiamo trovato che è grossomodo alle 17 abbiamo visto che l'sp500 ha fatto questa inversione perché è arrivato su un punto di swing molto importante quindi da quel livello lì ha iniziato a vendere a vendere l'sp500 però ricordiamoci che gli istituzionali parlerò bene magari fra due o tre volte gli istituzionali magari si posizionano prima magari sugli stocks e dopo si posizionano sul future perché magari più facile muovere velocemente un future rispetto uno stocks e sulle azioni investono più pesantemente riescono a entrare più pesantemente sulle azioni e poi fanno partire magari il future quindi le azioni crollano giù velocemente quindi avendo sortato molte azioni sul future e sulle sullo stocks poi riescono a guadagnare dei bei soldi muovendo di poco il future quindi sono delle manovre che fanno gli istituzionali queste cose qui è difficile che qualcuno ve le dica però ci sono dei trucchi che ha appunto adottano gli americani tra gli stocks e le sp500 addirittura di trucchi particolari proprio per cercare di prendere tanti soldi sullo stocks allora piattaforma che puoi vedere il book sono dei book particolari ho fatto vedere casomai l'altra volta e sul book ci sono delle piattaforme ma vari e la piattaforma della web bank e web bank invest in spanka abbiamo directa abbiamo tante giotto sim abbiamo tantissime piattaforme che possiamo vedere il book naturalmente dobbiamo avere anche cui oltre a vedere book io ad opero la ninja per quanto riguarda i future e la interfaccia con un altro broker e quindi sulla ninja riesco a vedere qualcosa di interessante però devo mettere un plugin per vedere un book particolare perché mi visualizza l'assorbimento di prezzo mi fa vedere queste cose qui naturalmente anche qui ci sono dei trucchi da adottare sul book e solitamente chi vi vende il suo offer o chi vi vende il plugin da inserire sulla piattaforma della ninja trader magari vi fa vedere tantissime cose qualcuno magari si perde a guardare delle cose che sono inutili sul sul book naturalmente chi fa il book sa che deve guardare una cosa 2 particolare sul book solitamente io queste cose qui le ho fatte vedere ai ragazzi nel mio corso la scorsa settimana ho fatto vedere una particolare anomalia che viene sul book ed è creata apposta proprio da chi dagli istituzionali è una cosa che solitamente un software o qualcosa non te lo fa vedere solitamente chi ti meriti da un software ti fa vedere ma l'ordine iceberg ma bisogna contestualizzare l'ordine iceberg di che tipo sono tantissimi ordini iceberg da contestualizzare naturalmente solo sul fiucio dell'axe ti devo dire già da adesso che il book non ha una grandissima rilevanza è più importante magari il l'order flow vediamo se c'è qualche altra domanda web bank e web bank diretta giotto sim esatto sì ok poi abbiamo altre anche altre piattaforme quindi io preferisco casomai andare su delle vi ho fatto vi ho fatto un po di pubblicità su delle piattaforme che abbiamo in italia che grosso modo semplice si mettete i vostri soldi alla fine li trovate se sono delle piattaforme estremari che hanno come residenza magari qualche isola particolare facciamo fatica a trovare i soldi sono anche delle piattaforme che si si hanno la delle residenze particolari dopo alla fine non andate la bussare la porta da questi perché vi fregano tutti i soldi quindi bisogna prestare molta attenzione hai mai utilizzato marca delta si l'ho guardato marca delta però ti devo dire la verità non è che mi faccia diventare amato ma naturalmente è buono come è buono se lo poi lo poi va bene va bene insomma dipende dalle informazioni che cerchi te da quello mari se tu guadagni guardando marca delta va benissimo così sì sì però naturalmente io dopo però altre altri software però non i software che ad opera non è che vado a vedere tutte le cose che ha un determinato software vado a cercare quelle due cose importanti per me ad esempio per quanto riguarda il ticker tanti guardano il ticker però a me sinceramente se sto guardando il book non è che mi interessi più di tanto il ticker mi interessa relativamente ma è qualcuno anche dei sonori che ti fa vedere ti fa sentire gli ordini grossi che passano sul book a me sinceramente se vedo un ordine grosso che passa sul book e non vedo che il book magari non 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 si muove da quel livello lì cioè è relativo vedere un ordine grossissimo che passa sul book allora andrea mi trovo qui mi trovo in italia mi trovo sono nell'isola di albarella un'isola privata dove si possono entrare solo i proprietari o magari qualcuno che vuole venire fare le vacanze qui abbiamo dei posti meravigliosi in italia quindi non sono sono nella mia casa di albarella quindi qui adesso facciamo una panoramica vediamo sono davanti sul sole quindi vediamo un attimo ecco faccio una panoramica dove sono la stanno giocando ancora carte c'è mia mamma che sta giocando a carte questa è la casa di albarella ok la mia casa di albarella quindi siamo qui che stiamo facendo facendo la diretta qui e dopo vedremo casomai tutte le prossime settimane farò la diretta da qui perché rimango in vacanza qui ad albarella ciao lorena vediamo se qualcuno ha qualche domanda da fare adesso non ho neanche presente che che orario siamo arrivati vediamo se qualcuno ha qualche domanda vi ricordo naturalmente che la cosa fondamentale cercare di trovare non non avere un book che avete centomila cose davanti dovete cercare di concentrarvi su due cose perché se dovete focalizzare poche cose e le cose importanti come vi ho detto precedentemente dobbiamo cercare le cozze attaccate al sasso attaccate agli scogli non è che dobbiamo cercare le cozze in montagna purtroppo tanta gente va a cercare le cozze in montagna quindi le cose non le troverà mai non riuscirà mai a mangiare le cose quindi questo è un esempio che vi ho fatto allora male compriamo anche noi in casa albarella potete comprare anche più di una di case se imparate bene alberto sì sì penso si impari bene questo lavoro qua magari per qualcuno ha detto che questo lavoro non ti fa diventare ricco io ho sentito un'intervista di uno che questo lavoro ti fa diventare ti dico ti dico io che puoi diventare di cui fare questo lavoro in qualsiasi parte del mondo e torgetti tutte le soddisfazioni che vuoi andare su queste alberghe cinque stelle senza problemi puoi andare via in aereo prenditi la business quello che vuoi in qualsiasi momento dell'anno e quindi puoi fare puoi fare quello che vuoi perché alla fine ti dà un'indipendenza questo lavoro che non ci sono altri lavori al mondo che ti possa dare questo tipo di indipendenza al momento all'inizio vi faccio riassunto abbiamo parlato proprio di trader profitto che fa questo lavoro come trader professionista grosso modo dobbiamo guadagnare più di 2 di 2 3 mila euro al mese ma essere costanti dopo naturalmente ci guadagna di più ma è importante cercare di fare questo questo lavoro in maniera profittevole ciao Enrico ciao ciao occhio di non stare sì esatto 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 vieni a trovare una volta in sala trading oppure se vuoi venire qua a trovarmi sai che sei benvenuto vieni a fare un giretto allora perché sul video dicevi che la sala trading è aperta agli studenti dopo il corso allora la sala trading è aperta agli studenti dopo il corso naturalmente per chi vuole venire lì fare un salto può venire fare un salto anche se non è mio studente può venire fare un giro ma non è che sia uno stadio che uno viene lì vicino a me e si mette dietro e guarda le operazioni che faccio continuamente non è che sia tutto gratis può venire ho detto può venire per mezz'ora un'ora può venire vicino a me non ho nessun segreto qualcuno può venire vicino a me vede che sto tradando e faccio questo lavoro qui tutti i giorni io addirittura la scorsa settimana finché facevo trading ho fatto questo lavoro qui con gli altri ragazzi ho fatto vedere che ho guadagnato bene quindi fatto vedere delle delle dinamiche del mercato anche attraverso il book gli ho fatto vedere delle cose interessanti e se vuoi venire vicino a me non c'è nessun problema vuoi venire mezz'ora naturalmente bisogna stare un attimino attenti che dopo un po sono ragazzi che vengono lì fare trading non è che sia un circo che possono venire tutti quanti non è un bar si deve venire venire lì e cercare di stare un po in silenzio perché non è che facciamo bacano perché questo lavoro dobbiamo farlo tutti i giorni in maniera in maniera abbastanza importante allora le zanzare si bene le zanzare c'è passano continuamente per con l'insetticida quindi qui zanzare ti dico la verità non ce n'è più ho fatto anch'io ho mandato qui una squadra in giardino ha fatto una disinfestazione solitamente dura un mese la disinfestazione allora ciao ciao a buone informazioni sugli scambi sia mercato a presto complimenti per tutto si esatto buone informazioni però stiamo attenti perché abbiamo visto che ci sono delle piattaforme che danno delle del flusso ordini e mare un flusso sui future o quant'altro che viene viene un po distorto quindi bisogna prestare attenzione a questo flusso dati che magari mi dà un'anomalia che alla fine io vedo subito se un flusso dati importante oppure no vediamo un attimo se ci sei qualche altra domanda mi raccomando cercate magari per chi vuole fare intraprendere questo lavoro che deve cercare di trovarsi un mentore deve cercare di leggere qualcosa di interessante di cercare di andare nella direzione giusta di cercare di trovare qualcosa di interessante sul grafico perché altrimenti come ho detto precedentemente rischia di di fare di fare un'operatività o di andare a cercare qualcosa che non lo troverà mai rischia di girare continuamente attorno a qualcosa che non lo troverà mai cercare di affidarsi a delle persone che sono che fanno vedere che fanno che guadagnano costantemente tutti i giorni che guadagnano sempre non hanno dei alti bassi ad esempio negli ultimi anni ultimi cinque anni ma per chi ha fatto trading abbiamo visto mercato che è salito molto quindi era anche facile magari tra virgolette fare un trading di posizione naturalmente dopo bisogna vedere un investitore un trader se è bravo che deve guadagnare sempre un trader per essere bravo deve guadagnare tutti i giorni non può avere giornate di perdita deve guadagnare tutti i giorni tutti i santi due giorni deve portare a casa la pagnotta deve guadagnare bene per fare questo non è che possa far vedere che guadagnare 5 euro 10 euro al giorno cioè con 5 euro 10 euro al giorno si guadagnare la pagnotta guadagnare un tozzo di pane però questo non puoi farlo come lavoro deve avere un altro lavoro e quindi dovrò dirlo però se uno rimane lì non ha di grossi risultati guadagnare 5 euro al giorno guadagnare 500 euro 1000 euro al mese chiaramente è meglio che si trovi un altro lavoro naturalmente all'inizio magari dopo un anno un anno e mezzo che ha imparato questa cosa qui 1000 euro è già un buon risultato però deve cercare di fare il salto di qualità non è che possa guadagnare 1000 euro al mese io avevo un ragazzo che gli ho insegnato che guadagnava 5 euro al giorno 2 euro 5 euro 10 euro senti fa così visto che non riesci a fare il salto di qualità fa meno di fare questo lavoro qui perché non è un lavoro per te perché inutile andare avanti guadagnare 5 euro al giorno cioè andate a lavare un'auto e trovate subito qualcuno che vi dai i soldi per 10 euro quindi fate ancora prima senza fare questo lavoro qui e spendere e spendere tempo buttare il vostro tempo per fare questo lavoro qui vediamo se c'è qualche altra domanda altrimenti io l'ho quasi terminata la mia la mia diretta casomai la prossima settimana vediamo di trovare un argomento un argomento importante vi ho fatto vi ho detto velocemente quali sono e di stare attenti fiucio anche la velocità il cambio delle velocità tra la mattina e al pomeriggio perché tante volte o di ragazzi che la mattina guadagnano al pomeriggio perdono perché magari il mercato è più veloce al pomeriggio cercate di capire lo strumento finanziario che potrebbe essere adatto a voi perché sono magari l'euro stocks è uno strumento abbastanza lento quindi potrebbe andar bene magari per le persone che fanno fatica a capire come si muove il mercato e naturalmente e non abbiamo non subiamo neanche neanche lo slip as perché se mettiamo lo stop su un determinato livello ce lo prende perché il book è così pesante che difficilmente vediamo uno slip as quando mettiamo uno stop su quel determinato strumento finanziario naturalmente se mettiamo uno stop sul dax magari potrebbe essere cinque punti rischiamo tante volte di vedere si mario 8 10 punti di stop perché non sto capiamo perché abbiamo uno stop leggermente più largo perché al book è leggermente più sottile quindi cerchiamo di stare attenti di stare attenti perché alla fine rischiamo di avere uno stop molto molto largo vediamo un attimo ricciardi mi aveva fatto una domanda vediamo un attimo se riesco a vedere la domanda mi ha fatto ricciardi paolo come fai a capire dove si posizionano gli istituzionali sul future il dax ad esempio allora vediamo che rispondo a ricciardi scusami che non ti avevo risposto prima allora come faccio a vedere gli istituzionali allora c'è qualche ragazzo qui che magari che mi segue e che riesce a capire esattamente come si posizionano gli istituzionali solitamente gli istituzionali cercano di andare con gli stop molto velocemente da parte di chi è entrato negli ultimi 5 6 minuti ti fanno vedere di volumi particolari ti fanno vedere di volumi particolari solitamente cerco di ragionare sul volume e come è anche l'orario che sta scambiando perché in base all'orario ci sono dei volumi particolari se magari abbia appena parte dalle 8 alle 9 sono volumi diversi quando parte dalle 9 in poi quindi devo contestualizzare volumi in base a determinati cluster di volume che mi fa vedere il dax e attraverso delle terminate figure grafica quindi importante capire un attimo dove ci troviamo graficamente su un determinato strumento finanziario che potrebbe essere magari generali il dax l'euro dollaro o qualcos'altro dopo aver contestualizzato questa cosa qui posso dire ok mi ha fatto una bella accelerazione di basso vado a vedere se mai gli istituzionali in questo momento qui stanno comprando quindi vado a vedere stanno comprando quindi questa cosa qui la insegno la insegno durante i miei corsi insegno come vedere gli istituzionali dove si stanno posizionando e solitamente se mai una figura grafica o 60 70 per cento di probabilità a mio favore attraverso il flusso degli ordini attraverso i volumi attraverso il book riesco a capire esattamente se quello istituzionale sta facendo un giochetto particolare c'è una differenza vi ho detto già tra i minimi e i massimi perché si comportano in maniera diversa ma questo lo spiego durante il corso e vi faccio vedere proprio esattamente questa cosa qui attraverso un ragionamento particolare perché solo con ragionamento particolare si riesce a capire come gli istituzionali si muovono durante la sessione di mercato vediamo un altro albani il problema è proprio trovare il tempo da dedicare per imparare esatto alberto alessandro scusami alessandro bisogna trovare il tempo per 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 capire questa cosa qua io dei ragazzi magari dedicano il tempo nella domenica sabato domenica del che un po di tempo per imparare però però bisogna cercare di capire dove imparare perché se tu leggi centomila libri e queste persone che scrivono non non sanno come tradare non impari niente se uno segue delle chat segue su facebook o qualcuno ha visto che tanti mi stanno copiando stanno facendo dei live e stanno tanti stanno copiando anche le mie figure grafiche naturalmente vi ringrazio che copiate questa cosa qui vuol dire che sono mari da driver per voi faccio capire qualcosa e naturalmente anche il sistema operativo windows è stato copiato da tantissime persone è stato craccato da tutti e naturalmente poi alla fine importante che se magari mi copiato lanciate qualche messaggio importante cercate di far vedere che questo messaggio che state lanciando lo fate anche voi oppure cercate di consensualizzare questa cosa qui perché io le cose che dico le cose che vedo sul future del dax le faccio vedere in tempo reale ai ragazzi quindi i ragazzi riescono a capire questa cosa qui ci vuole un po di tempo per capire naturalmente bisogna consensualizzare prima le figure grafiche bisogna capire un attimino essere bravi sulle figure grafiche bisogna capire esattamente il flusso degli ordini come funziona correttamente perché tanti guardano tante cose che alla fine non servono a niente guardano tante cose sul flusso degli ordini non ha senso cioè il footprint mi fa capire delle cose mi dà l'impronta di dove sono gli ordini ma se io non capisco esattamente come si muovono istituzionali posso avere anche il miglior software al mondo ma se non capisco esattamente come si muovono all'interno del book a questi istituzionali non capirò niente terza cosa capire esattamente il book quindi la prima cosa sulle sulle figure abbiamo la possibilità di avere uno stop che potrebbe essere sotto il minimo sotto il massimo di una determinata figura grafica sull'order flow riusciamo ad accorciare lo stop quindi riesco ad avere anche sul dax magari qualcuno mi crede riusciamo ad avere anche uno stop addirittura di tre tic sembra impossibile però possiamo arrivare a uno stop anche di tre tic sembra impossibile però riusciamo a vederlo perché se ho visto che nell'arco di quei tre tic sta macinando stanno comprando delle hft solitamente si muovono su due o tre tic e posso comprarlo all'interno di quei due o tre tic e lo stop è sotto due o tre tic magari dove sono posizionate queste hft invece sul book ho la possibilità di avere lo stop di due tic due tic perché se ho visto un particolare cosa un'anomalia che viene sul book e solitamente chi ha fatto tanti eseguiti riesce a capire questa anomalia riesce ad entrare con uno stop di due tic pensate voi partire con uno stop di cinque tic magari cinque o sei tic sul future tramite la figura o tramite il tramite magari il forex o tramite magari una commodity il petrolio oppure magari l'oro qualsiasi strumento finanziario uno stop di cinque sei tic lo porto a tre sul sull'order flow e riesco a portarlo a due sul sul book capite benissimo che io aprire cinque operazioni anche se prendo lo stop di tutti che ho perso dieci tic cioè dieci tic vuol dire cioè quasi matematicamente impossibile che parla dieci tic quando ho capito esattamente dove dove c'è l'anomalia sul book quindi è quasi impossibile capite benissimo che dici dico fatto cinque operazioni invece graficamente ne ho fatto magari una o due operazioni massimo invece sul book ne fate cinque capite benissimo la potenzialità che può avere un trader avere uno stop di dieci tic su cinque operazioni che è un'inerzia perché un'inerzia ve lo dico io un'inerzia però sono competitivo sono lì non ho perso tanti soldi e posso riaprire la sesta operazione e sull'altro posso aprire la sesta operazione per vedere magari di recuperare le perte quindi ho una perte esisoria perché ho capito esattamente come funziona il book per arrivare a capire esattamente come funziona il book per vi dico che è molto difficile ve lo dico è molto difficile capire il book per visto la scorsa settimana ho perso un attimino la pazienza perché era la decima volta che spiegava una cosa ci sono stati mari 15 16 ragazzi mari 12 l'hanno capito su l'hanno capito dopo la quinta volta gli altri 4 non hanno ancora capito dopo la decima la quindicesima volta e mi tocca ritornare per fargli capire questa cosa qui vediamo un attimo vado avanti con le domande velocemente mi sono un attimo di un gatto enzo da roma ciao paolo che capitale consigli di poter guadagnare su mille euro per uno che inizia su poter guadagnare simile euro per uno che inizia allora di ragazzi che hanno iniziato con 10 mila euro e hanno guadagnato anche mille euro al giorno c'è addirittura mi dispiace aver insegnato questa cosa qui magari qualche ragazzo per non mi sono pentito aver insegnato a qualche ragazzo esattamente come funziona il book perché dopo alla fine alla fine c'era meglio che qualche ragazzo non gli avesse insegnato questa cosa qui solamente una cosa che insegno con 10 mila euro puoi farlo benissimo naturalmente più soldi hai e meglio è però 10 mila euro si possono guadagnare anche mille euro al giorno però bisogna prestare prestare attenzione e cercare di un attimo l'altro cellulare mi sta suonando in questo momento qui per cui bisogna prestare attenzione quindi ma anche 10 mila euro possono bastare naturalmente puoi farlo anche con 3 mila 4 mila euro 5 mila euro però naturalmente il rischio è molto alto perché devi devi forzare un attimo la size e quindi il rischio diventa molto 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 alta addirittura sono stati dei ragazzi che hanno di ragazzi ma inciate che hanno guadagnato mari di bei soldi anche con 300 euro sul conto però il rischio è molto elevato però si può arrivare anche con 300 euro però ai rischi di avere una leva così alta di mangiarti tutto in un attimo allora stefano mi ha scritto paolo scusami se mi puoi rispondere anche alla mia domanda caso meglio riposta la vedo un attimo di rispondere del due domanda rifai la domanda stefano grazie andrea ricciari grazie mille grazie a te i prossimi corsi saranno a ottobre ciao paolo nuove informazioni riguardo i tuoi corsi potete trovare tutto su top borsa potete trovare tutto in fuoco la tua borsa ci sono dei video se avete qualche altra domanda qualche spiegazione la potete trovare direttamente sui video alberto voglio vivere di treni esatto alberto devi vivere i tre devi cercare per questo qua è un sogno che tanti ragazzi vogliono realizzare però ti dico è il più bel lavoro del mondo è il lavoro più meritocratico perché ti dice velocemente se sei bravo se sei uno stupido quindi cercare di essere di non essere stupido se capiremo anche nei prossimi video vi dirò un attimo qualche accorgimento che potete avere perché mi ha dato un altro spunto magari per qualche altro magari qualche altro argomento possiamo sviluppare più avanti mi raccomando fate certo perché vi ho detto delle cose che difficilmente qualcuno lo stoppa di 2 tic facendo solo book magari uno è bravo sul book però non ha capito esattamente come funziona il grafico io preferisco che tutti siano bravi grafico order flow e book book è l'ultimo passaggio si può andare direttamente sul book direttamente però se uno è molto bravo sul grafico sul grafico riesce a prendere movimento attraverso il book io non faccio scalping sul book per prendere pochi tic lo faccio per prendere pochi tic però cerco di prendere anche di movimenti e lì quando uno prende dei movimenti che riesce a guadagnare dei bei soldi mi raccomando fate share non avviate paura di fare share o mettere qualche lei che vi sto dando delle informazioni che difficilmente qualche trader vi può dare perché solitamente la maggior parte di trader sono trader perdenti non guadagnano in borsa e solitamente io cerco anche di seguire magari qualche trader che parla bene per televisione ad esempio ho sentito anche cartesano questa mattina con trader che parla molto bene ho sentito anche pietro di rolenzo è un altro ragazzo che che parla bene si sente che fa trading quindi qualche messaggio lo trasmettono non è che sia l'unico che guadagna in borsa sono tantissimi ragazzi bravi in italia però ci sono tanti ragazzi che magari non fanno formazione che sono bravi lavorare sono gli altri ragazzi che magari hanno delle non hanno niente da dire perché alla fine non si inventano qualcosa qualcosa che alleggono qualche libro qualche maris trova uno spunto ma anche marida da qualche mio video io magari parlo velocemente ma non è passato un messaggio importante però solitamente i contenuti sono importanti per solo di te una persona che ha fatto circa 5 milioni di eseguiti dal 2000 ad oggi e vi dico la verità che che fare 5 milioni di eseguiti vuol dire capire esattamente come si muovono gli istituzionali sono tantissimi trucchi sul book io ho cercato di rivelare solo due 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 trucchi sul book ai miei ragazzi perché gli altri sono più complicati quindi ci hanno messo magari 15 volte mi è toccato spiegare queste cose qui per farlo capire a tutti e qualcuno non è riuscito a capirlo perché ha capito che è molto difficile però la ripetizione continua di queste cose qui alla fine rimane in testa riescono a capire le cose per la cosa fondamentale capire a livello grafico dove mi sto trovando e che tipo di operatività posso fare tramite il grafico vediamo ci sono altre domande l'ho scritta perini è riscritta vediamo un attimo adesso scrivola qui di nuovo vediamo perché non riesco andare indietro purtroppo con il cellulare già mezzo orbo che sono io non ci vedo molto bene devo mettermi gli occhiali poi magari non vengo ancora peggio sul video con gli occhiali già vediamo un attimo se riesce a ripostarle pierini stefano riposta da subito che ti rispondo velocemente dopo chiudiamo il video mi raccomando fate share fate like mi raccomando condividete questa cosa qui carino il messaggio più persone possibile perché i concetti sono molto importanti cercate di abbandonare le chat di non frequentare le persone che io se ho delle persone che magari non mi danno qualcosa di importante non 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 le cerco di non di non seguirli perché alla fine cosa devo seguire alla fine anche il mio trading viene influenzato magari seguendo qualcuno che parla per televisione che dice delle fesserie quindi cerco di non seguire magari qualche qualche informazione mi da qualche trader perché alla fine non non mi dà niente positivo vediamo se pierini mi riesce a ripostare scusami scusami stefano ripostami la domanda guarda scusami se a caso mai la vedo te rispondo dopo qui guarda l'ho persa mi scuso per qualcuno mai non ho risposto non ho salutato tutti ragazzi vi saluto tutti in questo momento qui vediamo un attimo se arriva la domanda di pierini vi ringrazio per quanti seguono la diretta abbiamo tantissimi ragazzi che magari seguono seguono anche la andrea grazie a te andrea e buona grazie 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 mille andrea si l'ha iscritta cavolo io non la vedo abbiamo nato mi si riescono a dare indietro paolo scusami se poi anche alla mia domanda grazie paolo come fai a capire dove si può essere istituzionale questo risposto per stefano perché sul video dicevi che la sala 3 di aperta agli studenti dopo il corso la sala allora il percorso che si fa durante il corso il corso cioè non è un percorso che chiude dopo 4 5 lezioni possono venire sempre quindi ragazzi possono frequentare la sala e anzi è bene che la frequentino e che capiscano un attimo come funzionano i corsi in modo tale da cercare di ragionare come l'istituzionale un percorso lungo non è facile capire velocemente come funzionano gli istituzionali per cui possono venire costantemente possono venire sempre in sala non pagano niente possono rifare di nuovo il corso di nuovo non pagano niente devono stare a casa quando ho dei corsisti in sala la sala è tutta piena quindi non possono non possono venire di nuovo quando la sala è piena grazie a te ricciardi spero di aver letto il nome grazie a te andrea allora con questo vi saluto vi ringrazio delle di essere venuti pierini casomai se non ho risposto correttamente casomai ti rispondo lì scusami se non ho risposto quindi dopo il corso se le cose non mi sono chiare posso venire a trovare il corso non è un corso è un percorso percorso le persone possono sempre venire però adesso metterò un'altra un'altra cosa per venire in sala che chi viene in sala chi fa il corso deve seguire le regole perché se uno non segue le regole lo lascio a casa lo lascio a casa perché devo essere rigido perché uno deve seguire le regole che gli do perché se non segue le regole alla fine fa di testa sua e questo disperde tutte le cose che gli ho detto io deve seguire le regole praticamente non segue le regole lo lascio a casa quindi sarò più rigido durante i corsi perché chi segue il corso deve seguire determinate regole altrimenti lo lascio a casa perché non voglio gente che faccia di deve fare le cose che gli ho impartito al corso con delle piccole modifiche se gli dico che c'è uno stop di 2 t che non deve mettere lo stop di 20 punti non deve telefonarmi dice che ha perso mille euro in un giorno quando la massima perdita è di 100 euro non deve chiamarmi per queste cose qui quindi spero di averti risposto io vi saluto tutti vi ringrazio un cordiale saluto da paolo serafini ci sentiamo la prossima settimana se magari questa settimana vado a wimbledon vado a vedere vado vado a wimbledon a vedere il tennis quindi casomai vedo casomai vi faccio una diretta veloce di un quarto d'ora 20 minuti da wimbledon ok un cordiale saluto a tutti di euro una buona serata grazie di aver partecipato così numerosi grazie per aver partecipato e aver condiviso queste cose qui grazie mille e un cordiale salute a tutti un abbraccio da paolo serafini